Eccoci tornati, seconda parte di Pianeta Direttanti di questa dodicesima puntata stagionale con noi l'allenatore del Lucca 7 Roberto Rota e il capitano Giacomo Giampaoli, Lucca 7 ricordiamo che ha vinto la Coppa Provinciale, avete messo in Bacheca questa Coppa Roberto, è una bella soddisfazione adesso anche per tutta la società, mi sembra, io sono spesso in contatto con l'amico Bruscuglia che credo sia dirigente accompagnatore, però per tutta la società è stata una bella soddisfazione. Direi proprio di sì, penso che ce l'hanno anche dimostrato perché magari inizialmente la terza categoria facendo parte di una società dove c'è nel settore giovanile a cui danno molta importanza, viene un pochino, non dico messa da parte per l'amore di Dio, ma comunque magari non ha quell'attenzione che dovrebbe avere, che invece ha avuto quando siamo riusciti a avere questo risultato e penso che tutti i dirigenti di tutta la società ci hanno dimostrato questo attaccamento poi anche alla terza categoria. Vi avete quasi costretti a porre attenzione? Direi proprio di sì. Senti, sul fatto che avete giocato alla fine giocherete perché nel vostro campionato, ne parliamo poi in fondo quando vedremo anche le classifiche e tutto quanto, avete ancora tre giornate, quindi voi giocherete in campionato e parliamo di un campionato di terza categoria con tutto rispetto ovviamente. Trenta partite che non sono poche. No, è un bel campionato comunque. Però è più bello così di quando c'erano i gironi a 12 o 13? Certamente, sì, è tutta un'altra cosa. Sicuramente è molto meglio che di un gironcino a 10 squadre, 12 squadre. È così Giacomo? Sì, è molto, è più completo ecco, diciamo. È più campionato. È più campionato ecco. Forse manca il fatto che non c'è la retrocessione in terza categoria, però tutto sommato giocando 30 partite l'anno è veramente un campionato vero. E aspetta perché chi va in finale del playoff ne gioca a 32 alla fine. Eh sì, è una lunga galoppata verso la fine. Vabbè, poi ne parliamo. Sicuramente in eccellenza e adesso andiamo a commentare questo campionato sulle immagini di Lammari-Pescio-Ozzanese, giocata ieri e vinta alla fine come abbiamo visto dal Pescio-Ozzanese per 3 a 1. Qui credo, Roberto, fermo restando che Lammari di Mario Meschi ha giocato un'ottima stagione, si sono salvati insomma in tutta tranquillità. Però è chiaro che anche qui a tutti i livelli, come a tutti i livelli, le motivazioni fanno la differenza. Il Pescio-Ozzanese aveva bisogno di punti per salvarsi, il Lammari era già salvo. Certamente, però c'è da dire che questo Lammari ha fatto un campionato eccezionale. Perché sono partiti con una squadra, io conosco anche l'allenatore, il Meschi, so che aveva una squadra giovane, hanno puntato su questi ragazzi che hanno fatto dei risultati incredibili. Anche loro sicuramente non si aspettavano poi una salvezza come hanno avuto. Insomma, io non voglio dire tranquilla, ma sì, ma anche tranquilla, perché poi grossi pericoli non li hanno mai corsi. Io ne sono particolarmente lieto per Mario Meschi, ma non solo perché sono una delle nostre squadre che partecipavano a questo campionato di eccellenza, ma anche perché proprio il Lammari, questo mi fa piacere ricordarlo, ormai circa tre mesi fa sono stati i primi ospiti del ritorno di Pianeta Dilettanti, una trasmissione che la nostra direzione, il nostro direttore Giulio Del Fiorentino ha fortemente voluto, ha voluto riproporre e di questo ne siamo particolarmente lieti perché mi sembrava giusto Roberto seguire e tornare a seguire un po' più da vicino quella che è la realtà del calcio dilettantistico dall'eccellenza fino alla terza categoria. Per quanto riguarda questo campionato, Giacomo, vabbè, l'ha vinto il Ponsacco, ne abbiamo parlato tante volte, adesso avremo altre due squadre insomma delle nostre perché Lammari si è salvato, Givizzano-Burgamozzano che insomma è stata invece un po' una delusione, comunque rimane lì, Pietrasanta Marina e Castelnuovo. Lo vediamo questo derby, anche se Castelnuovo deve ancora superare la Larcianese, magari Larciano non saranno tanto d'accordo. Speriamo che sia un derby diciamo tutto lucchese, ecco, tra Pietrasanta Marina e Castelnuovo, speriamo insomma che anche il Castelnuovo ce la faccia superare la Larcianese. Il fatto che si giocano partite secche ora negli spareggi, senza più l'andata, il ritorno? Ci vuole una mentalità forte. Cosa cambia secondo te? Sono tutte finali, come una finale unica bisogna entrare in campo decisi con la voglia di portare... Ci calcoli, anche se è chiaro che parlavamo prima dell'esempio del caso di Castelnuovo-Larcianese quando giocheranno, Castelnuovo può giocare a disposizione due risultati su tre, questo alla fine secondo te ti può un po' condizionare oppure bisogna comunque giocarla? Delle volte sì, ma se uno entra in campo deciso la classifica finale poi conta poco, contano le motivazioni in quella partita. Roberto? Penso anch'io, non lo so se poi sia giusto o no giocare a una partita secca, però... Quella l'hanno fatta anche per accorciare un po' i tempi, altrimenti... Sì, probabilmente sì. Andava sempre a giugno, a giugno in oltrato spesso. Comunque, vabbè, se hanno deciso così vuol dire che è giusto fare in questo modo. E la forbice dei dieci punti la ritieni invece una cosa equa, cioè evitare che ci siano squadre e magari nelle ultime giornate sonnecchiano aspettando il dispareggio. Può essere giusto anche quello, visto che magari è una squadra che è stata per tanto tempo in alta classifica e magari si deve giocare poi in una partita tutto il campionato, può succedere anche che quella squadra che magari ha 10-12 punti di svantaggio riesca a indovinare, è successo appunto, e probabilmente magari non è giusto che una squadra di bassa classifica, diciamo con tanti meno punti, possa magari riuscire in una partita a sovvertire tutto. Cioè questo vale per quando ci sono in ballo gli spareggi salvezza, ma è successo anche negli spareggi promozioni, squadre che avevano, ripeto, vivacchiato per qualche settimana, facendo riposare i giocatori, evitando squalifiche, infortuni, no Giacomo? E poi alla fine... Sì, sì, secondo me la forbice dei 10 punti serve anche per premiare, diciamo, già squadre. Ma è anche giusto, quando c'è, ora se ci sono pochi punti può essere anche casuale, può essere frutto anche di un pizzico di fortuna, di una partita che ti è andata male, ma quando comincia ad avere 10 e più punti di vantaggio o di svantaggio, fate voi, insomma, alla fine del campionato vuol dire che probabilmente i valori sono quelli. Senti, ci raccontate qualcosa di voi un po' più nel dettaglio, cominciando da Giacomo? Tu giochi nel Lucca 7, dove hai cominciato? Hai sempre giocato lì? Io ho girato alcune squadre, ho cominciato con la scuola calcio alla Piave San Paolo e poi l'ultimo anno degli allievi la Piave San Paolo non lo faceva più, allora sono andato a fare gli allievi regionali alla Folgor Segromigno. Alla Folgor Segromigno non c'erano più juniores prima squadra e allora ho fatto le juniores regionali a Vorno e dopo tre anni di Vorno sono stato preso in prestito dal Lucca 7 e ora è quattro anni che sono a Lucca 7. Quindi come prima squadra hai sempre giocato nel Lucca 7? Sì, ho avuto la fortuna il primo anno di prima squadra di fare il campionato di terza categoria l'anno che abbiamo vinto i playoff e siamo andati poi in seconda e poi abbiamo fatto solo un anno di seconda categoria, siamo subito retrocessi e sono sempre fatto un campionato di terza fino ad oggi. Speri no di tornarci almeno in seconda? Sì, 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 un auguri a quello sì. Roberto per quanto riguarda invece te, quanti anni sono adesso che sei a Lucca 7? Questo è il secondo anno. È il secondo anno. Qui quando ti conoscevamo prima dove sei stato? Sono stato per tanti anni all'Acqua Calda San Cazziano, Acqua Calda San Pietravico. Sì, che è ancora Acqua Calda San Pietravico. Sì, 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 per più di dieci anni. Adesso fanno la seconda loro, poi ne parliamo, sono un po' invischiati. Stanno lottando anche loro per cercare per la salvezza. Vediamo la promozione, la promozione prima di andare poi anche, commentiamo anche questo campionato. Allora, detto che l'eccellenza comunque sia conclusa e che adesso aspettiamo prima questo Castelnuovo-Larcianese e poi Pietrasanta contro la vincente di Castelnuovo-Larcianese, questi risultati della ventinovesima penultima giornata del campionato di promozione. Bagni di Lucca-Lunigiana 1-3, Malisieti-Signa 2-2, Montelupo-Sagginale 2-4, Cerretese-Zenit 0-1, San Miniato-La Portuale 4-2, potremmo dire La Portuale scherza col fuoco ma vedremo che poi non è così, Terme-Montecatini-Lampo 2-1, Vaianese-Seravezza 3-0 e Vicchio-Realforte-Querceta 0-7. Allora, questa è la classifica, l'asterisco per La Portuale sta perché alla fine i punti di penalizzazione sono stati 1, ne abbiamo parlato tante volte, un punto di penalizzazione. La Portuale 62, Realforte-Querceta 61, poi attenzione perché ci sono 12 punti come vedete tra Realforte-Querceta e le terze che sono Bagni di Lucca e Terme-Montecatini, questo significa che se Realforte-Querceta e se tanto mi da tanto mi veniva a pensare che nell'ultima partita questi ragazzi del Presidente Mussi non dovrebbero sbagliare, potrebbero a loro volta evitare altri spareggi, cioè arrivare secondi, questo campionato, secondo posto è loro. Perché dico questo? Perché la Portuale in realtà, siamo andati a controllare, no Roberto? Vi ho detto prima di entrare, fatemi vedere l'ultima partita della Portuale, l'ultima partita della Portuale è in casa, pensate un po' con chi? Col Vicchio, che abbiamo visto ormai con tutto rispetto per questa squadra e questi ragazzi sono un po' il riccione di questo campionato, passano dai 7 agli 8 ai 10 gol la partita che subiscono. Quindi la Portuale, alla fine il Querceta si mangeranno le mani, i gomiti, qualcos'altro, rischiano di arrivare secondi per un punto, per un punto diceva il proverbio Roberto Martín perse la cappa, però ecco credo che insomma... E in coda al di là della retrocessione del Vicchio c'è la retrocessione del Montelupo e poi nulla, bisogna aspettare l'ultima giornata per vedere se questi 7 punti del Signa da Cerretese e Vaianese rimangono 7, sono addirittura meno e allora vuol dire che il Signa spareggerà con una delle squadre che sono lì tra i 39 e i 40 e i 41 punti, oppure se diventano 10 e in quel caso il Signa farebbe compagnare le altre due. Possiamo partire con delle immagini adesso di questo campionato di promozione e nulla Roberto, è così, torniamo al discorso di prima, il Real Forte Querceta ci ha sperato, ci ha creduto, però probabilmente potrebbe arrivare secondo. Probabilmente sì, in teoria potrebbe ancora arrivare. 12 punti di vantaggio, è nelle loro mani, nel destino è nelle loro mani, perché se loro vincono chiaramente dietro non possono recuperare nulla e vuol dire che sono secondi e quindi si potrebbe profilare un eventuale, qualcuno dice, addirittura passaggio diretto di categoria. Vedremo perché credo che sono questa squadra del Presidente Mussi, che abbiamo avuto proprio qui ospite dei nostri studi qualche settimana fa, se lo meriterebbe. Qui vediamo in azione il Bagni di Lucca, che comunque ha giocato tutto sommato una buona stagione, è chiaro che in fondo un po' forse hanno anche inconsciamente mollato, anche se poi loro si sono giocati molto proprio nella semifinale di Coppa Italia di promozione che persero proprio con il Seravezza. Lo stesso si può dire con il Seravezza e non è che anche a voi è successa un po' la stessa cosa per il discorso della Coppa, che in campionata avete forse perduto qualche punto, ti chiedo? Ma sì, poi quando abbiamo capito che c'era la possibilità di far bene in Coppa, logicamente abbiamo lavorato sempre in funzione della Coppa, della semifinale e poi dopo della finale, però in campionato non è che abbiamo mollato, ma comunque abbiamo cercato di tornare poi i conti per la Coppa. Di privilegiare Giacomo la Coppa, perché poi non è questione, io prima ho usato forse un verbo non giusto, perché voi che scendete in campo, soprattutto lui che è il vostro tecnico, non è che uno dice il sabato, vabbè c'è il campionato, come dire, ci gioco col sigaro in bocca, no, in realtà non è così. No, no, il campionato va sempre onorato, però nella nostra situazione eravamo in una condizione di classifica che non ci permetteva tanto di sperare ai play-off e quindi abbiamo optato per la Coppa provinciale e quindi ci siamo preparati più per quella, senza trascurare troppo certamente il campionato. Perché dopo, magari possiamo sfumare anche queste immagini e comunque fare complimenti anche al Bagni di Lucca e al Seravezza che comunque hanno giocato una buonissima stagione, perché caro Giacomo non a tutti e tutti gli anni riesce il triplete, no? Eh sì, esatto, esatto. Io ci torno ogni tanto su questo, no Roberto, è vero o no? Eh vabbè, questo è, perché voi interisti… No, no, ma al di là di questo, parlando seriamente, voglio dire, anche a livello direttantistico poi, non è facile, anzi forse è ancora più complicato, forse è più da voi che bisogna fare anche delle scelte a un certo punto, no? Abbiamo parlato di Seravezza, del Bagni di Lucca, voi stessi… Cioè non è facile, diciamo, lavorare su due fronti, impegnarsi, cioè avere due obiettivi… Da perseguire. Eh sì, diventa difficoltoso, anche se, per carità, bisogna avere una rosa ampia, bisogna avere anche un pochino di fortuna nel discorso, diciamo, degli infortuni, cosa che noi, sinceramente e fortunatamente, quest'anno è andata molto bene, a parte… Tu quanti giocatori hai in Rosa? Quanti giocatori hai in Rosa? Ma, diciamo, 18-20. Ora, in terza andate anche tutti in panchina, scusatemi se vi faccio questa domanda. No, 18. 18, in terza sempre? Sì, sempre 18. No, vabbè, c'è una squadra che effettivamente a livello direttantistico, anche se, insomma, parlando di quella squadra, di quei giocatori lì, parlare di livello direttantistico mi pare eccessivo, però, insomma, era a tutti gli effetti in un campionato direttantistico, come lecce, Ponsacco ci ha provate anche in Coppa. Ci dispiace perché dopo essere arrivati alla finale, dopo che erano venuti qui da noi, eliminando l'Arzignano di Vicenza, in finale sono stati un po' sfortunati, un po' forse hanno sprecato qualche occasione di troppo, Fiale e compagni, e alla fine sono stati battuti per 3-2, se non ricordo male, addirittura ai supplementari dal Campo Basso. Però, insomma, io credo che abbiano onorato al meglio, poi fossero riusciti a vincere anche la Coppa nella fase nazionale, avrebbero veramente suggellato una stagione magnifica. Ci fermiamo, pausa pubblicitaria. Prima e seconda categoria, Roberto, credo che sono due campionati che segui? Sì, sì, abbastanza. E quindi avremo modo, avremo tanta carne al fuoco perché sia prima che in seconda ci sono ancora tanti verdetti anche lì da verificare, da dare al di là del piano di Coreglia che come sappiamo ha vinto il campionato e poi sul piano di Coreglia vi anticipo una cosa, subito dopo la pausa pubblicitaria. Grazie.